Perché a me non deve mancare questo punto panoramico E non sono ancora convinta, devo spostarmi Resterà fino al passaggio del cocchio? Assolutamente sì Abbiamo sentito anche la signora, sì Assolutamente sì, resterà fino al passaggio del cocchio, quello è lo spettacolo poi più importante È il momento sicuramente più toccante, ce lo riserviamo per dopo Assolutamente, abbiamo già parlato delle varie fesse del Santo Quella del primo maggio per sciogliere il voto fatto nel 1656 Per ringraziare, per omaggiare il Santo che ha liberato Cagliari dalla peste Il 15 gennaio la festa più antica è quella del martirio, il Dies Natali Che commemora la nascita al cielo Le ricerche storiografiche recenti la fanno risalire già al 1584 Il culto a cura della municipalità